L'Eucaristia è scaturita da che cosa? Dall'amore senza riserve di Dio sulla croce. Ecco perché Padre Pio diceva, sì, io amo la croce, la croce sola, l'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Ecco allora che noi in questa mattina preghiamo lo Spirito Santo invocato per far sì che questo pane e questo vino, offerta di tutta la nostra vita, sul nostro, su questo altare, ci aiutino nella sequela del Signore, nella vocazione in cui il Signore ci ha chiamato e che soprattutto l'intercessione di Maria e di Padre Pio ci aiutino sempre nelle vie di Dio. sia lodato Gesù Cristo.